buonasera a tutti e benvenuti in questa serata beh innanzitutto io mi presento mi chiamo marzia faccio parte dell'associazione osteria volante e ringrazio sherwood festival per ospitarci durante questa serata in questa bellissima cornice che appunto il festival beh introduco un po la serata prima di lasciare la parola alle nostre alle nostre ospiti noi siamo un'associazione padovana ormai attiva da una decina d'anni e questa serata che si chiama appunto schiavi del lavoro si inserisce nell'ambito di un diciamo un festival un po più più ampio in cui abbiamo diciamo deciso di trattare il tema delle schiavitù moderne ogni anno la nostra associazione organizza un festival in cui diciamo si focalizza su tematiche sempre diverse abbiamo trattato il tema delle delle mafie dei regimi totalitari nel mondo della sostenibilità e varie tematiche quest'anno appunto abbiamo deciso di occuparci delle schiavitù moderne cercando di adottare un approccio più diciamo ampio possibile che analizzi diverse diciamo dimensioni di questa problematicità e quindi non diciamo solamente quelle schiavitù che si sviluppano in situazioni di diciamo particolare marginalizzazione e degrado o comunque situazioni di come dire povertà ma anche quelle schiavitù che comunque si sviluppano in contesti di benessere e di cui siamo più o meno consapevolmente tutti un po vittime diciamo in questa diciamo serata ci occuperemo di appunto schiavitù che invece hanno a che fare con situazioni di disagio che poi diciamo sviluppano fenomeni particolarmente gravi che sono quelli della tratta degli esseri umani e del caporalato ma nel proseguo del nostro festival che conta sette puntate sette appuntamenti e quattro nel mese di luglio e tre nel mese di settembre andremo appunto a toccare anche altri tipi di fenomeni in qualche modo e pensiamo ad esempio la nostra diciamo dipendenza in un certo senso dalla tecnologia dalle idee degli algoritmi che ci rende in qualche modo comunque schiavi quindi anche in situazioni di benessere siamo comunque schiavi siamo schiavi anche dell'apparenza siamo schiavi di una serie diciamo di contingenze e oltre diciamo adottare questo tipo di sfumature proviamo anche a metterci un po' nel panni dell'altro, del diverso in qualche modo cercando anche di analizzare quelle che sono un po' le difficoltà che incontrano quelli che noi chiamiamo le vittime o gli schiavi del mito dell'occidente con una serata dedicata appunto ai migranti e al loro diciamo viaggio verso l'occidente, verso l'Italia e verso l'Europa in generale. Ancora il prossimo appuntamento sarà per esempio martedì prossimo in cui parleremo invece degli schiavi del delivery quindi questa diciamo necessità e bisogno di velocità e parleremo anche quindi di rider, dei loro diritti, temi anche questi molto caldi la serata di stasera senza diciamo anticipare troppo perché ovviamente lascerò spazio alle due nostre ospiti vorrà cercare di capire un po' di più cosa si intende per caporalato e per tratta di esseri umani quindi quello che chiederò alle nostre speaker che sono Barbara Maculan della cooperativa Equality di Padova e Maria Panariello che è campaigner e giornalista dell'associazione Terra di Roma sarà quello di introdurci un po' a questi due fenomeni per capirne un po' le caratteristiche ma anche le dimensioni sia a livello nazionale ma anche oltre i confini nazionali perché come mi anticipavano entrambe ovviamente non si tratta di fenomeni che riguardano solo noi e anche di darci un po' di vissuto in qualche modo e anche qualche esperienza e anche indicazioni su come possiamo noi in qualche modo reagire o comunque fare la nostra parte per affrontare queste problematiche in qualche modo o comunque essere più consapevoli perché spesso credo manchi un po' la consapevolezza di quello che succede anche molto vicino a noi detto questo cercheremo dopo i loro interventi di agevolare comunque un po' di dibattito e di agevolare le domande da parte vostra che sono ovviamente benvenute e come diciamo da stile osteriavolante faremo circolare del rum e formaggio perché la nostra associazione diciamo ha come caratteristica tra le altre quella di diciamo offrire rum e formaggio durante i dibattiti un po' per alzare un po' gli animi e darci più coraggio a intervenire e farci forza ecco mettiamo così e ora lascerei la parola alle nostre due ospiti che ringrazio e grazie ancora a Sherwood per questa possibilità. Barbara, prego. Grazie, grazie Marzia, grazie all'osteriavolante, grazie a tutti voi per essere qui questa sera. Allora, due parole insomma sulla cooperativa di cui io sono presidente, si chiama Equality, è a Padova, abbiamo la sede in via Canestrini insomma vicino al Parco Iris e siamo un ente antitratta diciamo è una cooperativa che ha come focus la tratta di esseri umani e minori. Ma per entrare nel vivo insomma ecco dell'argomento e grazie anche a Marzia per questa introduzione mi sento di dire, come dire, inizialmente che la tratta non è certo un argomento che agita la politica nazionale, europea o internazionale pur coinvolgendo tantissime persone, non l'agita come l'agitano magari le vicende tra Grillo e Conte o altre cose che sembrano avere più interesse, è però il nostro tema obiettivo perché la tratta di esseri umani è una questione penale e una questione umanitaria, insomma di diritti umani. E' un fenomeno transnazionale che riguarda il nostro paese così come tanti altri paesi europei e altri paesi del mondo. L'Italia, tanto per collocarla con il panorama europeo, è tra i tre paesi più coinvolti da questo fenomeno perché ha più persone che sono state identificate e prese in carico, vado con dei termini tecnici, come vittime di tratta. Ma che cos'è la tratta? Allora, la tratta intanto è un fenomeno che è stato decodificato dal protocollo addizionale delle Nazioni Unite nel 2000. Quindi per noi che lavoriamo in questo ambito il nostro Big Ben è stato l'anno 2000 quando questo protocollo addizionale sulla tratta ha definito il fenomeno. Quindi una vittima di tratta viene definita tale quando c'è il reclutamento nel paese d'origine, il trasporto, via mare, via terra, quello che è, e arrivata nel paese di destinazione c'è uno sfruttamento attivo e una situazione di pericolo. Quindi immaginatevi che ha a che fare con i flussi migratori, ha sicuramente a che fare con i flussi migratori. con i flussi migratori misti. Tecnicamente si dice così perché misti? Perché all'interno dei flussi migratori che interessano il nostro paese, anche perché abbiamo la forma di uno stivale tutto circondato per non mi ricordo quanti chilometri di costa. Quindi siamo circondati dal mare, confini marittimi e confini terrestri. Siamo collocati rispetto all'Europa come porta d'ingresso di tante persone che arrivano qui in cerca di o condizioni di vita migliori, sono i cosiddetti migranti economici, o per questioni di vita o di morte perché a stare nel loro paese rischiano la vita per persecuzioni che possono essere politiche, di identità di genere, religiose e quant'altro, ma possono esserci anche persone vittime di tratta e di grave sfruttamento. Quindi che cosa andiamo a cercare noi quando facciamo la valutazione, come dire, psicosociale? Se ci sono questi tre elementi, la vittima di tratta è una persona, può essere donna, uomo, persona transgender, una minore o un minore, che sia stato reclutato nel paese d'origine, trasportato e sia arrivato nel paese di destinazione destinato ad uno sfruttamento. Lo sfruttamento può essere uno sfruttamento sessuale, per esempio nell'ambito della prostituzione, prima cosa da chiarire, scusate se faccio queste precisazioni, ma non è colpa vostra, non è colpa mia, nel senso che poi l'opinione pubblica si fa anche sulla base delle informazioni che ci vengono date. Spesso c'è una tendenza alla semplificazione, alla spettacolarizzazione, spesso la tratta viene confusa con la prostituzione. Non è così. Se non fosse che, per il fatto che la vittima di tratta è la vittima di una grave violazione di diritti umani, è vittima di un crimine, mentre chi esercita l'attività prostitutiva non è detto che sia vittima di uno sfruttamento, c'è anche chi esercita l'attività prostitutiva per scelta, per necessità, ma che non ha un'organizzazione criminale alle spalle, che si trattiene denari, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa è da distinguere. Una cosa è lo sfruttamento sessuale e una cosa è la prostituzione. Possono coincidere quando la persona viene impiegata nell'ambito della prostituzione, ma poi c'è l'organizzazione, lo sfruttatore, la madame, la sfruttatrice, che gli chiede delle percentuali di guadagni. Tecnicamente, anche se io mi tengo un euro del tuo lavoro, ti sto sfruttando, quindi c'è lo sfruttamento della prostituzione. Quindi poi le declinazioni dello sfruttamento possono essere tipicamente lo sfruttamento sessuale, generalmente coinvolge, poi vi do magari anche qualche dato, coinvolge più donne o persone transgender. C'è lo sfruttamento lavorativo, il grave sfruttamento lavorativo, poi Maria ci parlerà in generale, insomma, dello sfruttamento lavorativo, ma noi ci occupiamo del grave sfruttamento lavorativo e tecnicamente significa, non è la stessa cosa del lavoro nero, perché quando qualcuno si trattiene, per esempio, il tuo documento di identità, usa minacce, usa metodi coercitivi, quindi la violenza, la forza, non ti paga il salario, non ti consente di fare le ferie e, come dire, non ti riconosce tutti i diritti, si parla di grave sfruttamento lavorativo, quindi violazioni di libertà, violazioni di sicurezza, eccetera. E questo coinvolge oggettivamente, quelli che emergono sono più uomini, questo come tendenza, anche nella nostra città, nella nostra regione, nel nostro paese, questa è la tendenza, mi sto dando delle macro coordinate. Poi ci sono delle forme che sono meno note, ma non meno subdole di sfruttamento, che sono, per esempio, lo sfruttamento dell'accattonaggio, quindi tutti quei migranti che chiedono l'elemosina agli angoli delle strade o magari per il parcheggio o davanti ai centri di culto, sono generalmente donne o minori. E poi c'è un'altra forma, la quale noi teniamo molto, perché equality, come vi dicevo, ha questo focus, oltre che la tratta sui minori, e quest'ultimo target, diciamo, è la convergenza dei nostri due temi obiettivo, che sono le vittime dello sfruttamento delle attività criminali forzate. Cosa vuol dire sta roba? Vuol dire, e sono prevalentemente minori, quelle persone, appunto, prevalentemente minori di area nordafricana, impegnati, impiegati, per esempio, nello spaccio. Quindi, tipicamente, il ragazzino tunisino che arriva da un quartiere che si chiama Elkabaria, che è una specie di scampia, direi, con tutto quello che è questa associazione, che vengono reclutati, appunto, nel paese d'origine, l'organizzazione parla con la famiglia, la famiglia, il solito è un nucleo monoparentale, quindi c'è un genitore, consegna all'organizzazione che gli dice lasciami tuo figlio che lo porto in Italia e gli faccio trovare un impiego così poi ti arrivano dei denari rispetto a questa attività, non dicono qual è l'attività, partono dalle coste tunisine, magari non con il gommone che si buca, ma con gli overcraft che ci mettono due ore, due ore e mezzo ad arrivare nel canale di Sicilia o a Lampedusa o a Pantelleria, queste sono nuove, nuovissime rotte, e l'organizzazione magari gli paga il biglietto Flixbus nel cellulare, tenendo conto che i cellulari, perché spesso, no, si dice, eh, non hanno i soldi, eppure c'hanno i cellulari, i cellulari sono delle forme di controllo, l'organizzazione controlla le persone attraverso questi dispositivi, quindi pagano il biglietto Flixbus, perché nei Flixbus generalmente non ti chiedono documento di identificazione, arrivano lì dove devono arrivare che sono tipicamente Padova o Mestre, no, rispetto al nord-est, piazze dello spaccio molto importante, insomma. Quando arrivano nelle nostre città gli vengono dati tipicamente 200-250 euro per andare da footlooker, non solo spot, insomma, prendersi il berrettino, la scarpa, la maglietta figa per essere riconoscibile in strada e spacciare. Dietro questi ragazzi spesso c'è una regia adulta e sono, ripeto la definizione, vittime delle attività criminali forzate. Perché attività criminali? Cioè, nel senso che operano nelle economie illegali, perché lo spaccio è un reato nel nostro paese. Quindi, il casino qual è? Che loro al contempo sono autori di reato, ma vittime di sfruttamento. Ed è molto complicato identificarli, perché la dinamica è capovolta, emergono come autori di reato ed è solo dopo che capiamo che sono anche vittime di sfruttamento per tutta una serie di condizionamenti, insomma. Che cosa fa la cooperativa Equality e che cosa si fa in Italia? Allora, per una volta tanto dobbiamo vantarci del nostro paese, della normativa antitratta, perché è fiore all'occhiello del nostro ordinamento. Si dice così. Vi ho parlato del protocollo addizionale dell'ONU che definisce, vi ho dato prima, la definizione di tratta, quindi la vittima di tratta è una persona che è stata reclutata, trasportata e viene sfruttata nel territorio e le forme sono queste che vi ho detto. Di che cosa ha diritto la persona vittima di tratta ha diritto a se intanto collabora con l'autorità giudiziaria e quindi o denuncia o fornisce delle informazioni tali da identificarla come vittima di tratta e può anche non denunciare ma e poi aderisce ad un programma di protezione ha diritto alla protezione intanto e a un permesso di soggiorno questo permesso di soggiorno arriva da lontano da prima del 2000 un po' prima del 2000 dal 98 dal testo unico sull'immigrazione sono passaggi chiave perché ci dicono il nostro paese come si colloca a livello europeo e mondiale perché l'articolo 18 ce l'abbiamo solo noi ed è una grande fortuna perché è una grande tutela per queste persone perché se succede in Francia o la persona che alle persone succedono tutte queste cose no o nel Regno Unito o in Svezia in Svezia lasciamo perdere la normativa che mi incazzo o la persona denuncia e poi gli si dà un permesso di soggiorno per sei mesi negli altri paesi semmai se no se non denuncia si prendono le informazioni che servono e via può essere pure espulsa eppure è una vittima di gravi violazioni di diritti umani come abbiamo detto nel nostro paese invece c'è questa doppia opzione o denunci oppure se non vuoi denunciare aderisci ad un programma di protezione naturalmente ci deve essere qualcuno che scusate il termine non tanto bello ma certifichi che quella persona sia vittima di tratta e lo fa l'antitratta cioè noi non solo noi come equality noi siamo incastonati diciamo in un sistema veneto antitratta che si chiamava fino all'altro giorno progetto nave adesso da il primo luglio quindi veramente da pochi giorni ci chiamiamo progetto navigare ma poi chi fa il lavoro operativamente sul campo è il privato sociale quindi la cooperativa equality con altre 10 cooperative che storicamente si occupano di questo tema e quindi cosa facciamo quindi noi andiamo lì dove presumiamo che ci siano le vittime di tratta quindi vi ho parlato di sfruttamento sessuale vi ho parlato di prostituzione noi usciamo nelle strade del veneto e contattiamo tutte le persone che si prostituiscono perché non è che la vittima di tratta ce l'ha scritto a led rossi qui sono una vittima di tratta ma dobbiamo come dire capire no? se lo è e quindi copriamo tutte le province del veneto ma quando si tratta per esempio di sfruttamento lavorativo dove andiamo andiamo nei luoghi di lavoro non ci andiamo noi spontaneamente perché non ci possiamo ma andiamo in collaborazione con gli ispettorati del lavoro che fanno i cosiddetti accessi lavorativi quindi c'è stata una segnalazione rispetto a quell'azienda agricola perché mettiamo che un lavoratore si sia infortunato ed è finito in ospedale dall'ospedale un operatore sanitario ha lanciato l'SOS diciamo a chi ha il numero verde nazionale contro la tratta che è l'800 290 290 ha chiamato il numero verde e ha detto senti io qui ho ricoverato un lavoratore che mi sta dicendo delle cose mi fa pensare che possa essere una vittima di tratta bene il numero verde attiva in quella provincia mettiamo che sia Padova l'operatrice territoriale antitratta che è la persona che va a incontrare il lavoratore con la mediatrice o il mediatore linguistico culturale altra figura chiave sono lavoratori stranieri sono persone straniere quindi una figura ponte che ti collega dal tuo paese d'origine non solo per la questione linguistica ma anche per la questione culturale guarda che ti stanno facendo queste domande per questo e questo motivo sono figure chiave sono proprio quelle figure che ti aprono le porte quindi dalle come noi le definiamo le narrazioni congelate perché la persona ha paura non sa chi sei ma chi sei tu tra le mille persone che ho visto arrivato qui e quindi inizialmente c'è questa situazione congelata che poi si scongela via via quando acquisisci insomma ti conquisti un po' di fiducia capiscono qual è l'opportunità ecco quello che noi gli spieghiamo è che ci può essere un'opportunità che significa lasciare una situazione di sfruttamento e di violazioni di diritti che hanno a che fare con la vita come vi dicevo la libertà la sicurezza la dignità del lavoro e entrare eventualmente in un programma ma non c'è obbligo non c'è nessun obbligo discorso a parte per le minori e minori un minore non può stare in strada un minore va protetto e tutelato abbiamo nell'89 firmato una convenzione che è quella per i diritti del fanciullo il fanciullo va protetto non c'è un obbligo c'è un'opportunità sta a noi però spiegare bene quest'opportunità vado si chiudo e quindi quando la capiscono possono entrare in questo programma vuol dire in una struttura dove gli viene fornito vitto alloggio e poi c'è tutta la parte dell'inclusione sociale chiudo solo con dei dati l'Italia ha 21 progetti l'Italia è divisa in due in tutti i sensi nel senso che metà Italia ha diciamo che la la divisione è anche proprio territoriale per regioni metà regioni hanno come capofila nei progetti antitratta enti pubblici questo è il nostro caso vi dicevo no? l'altra metà d'Italia quindi 11 progetti sono capofila enti pubblici metà progetti hanno come capofila enti del privato sociale noi nel Veneto intanto per darvi gli ultimi dati insomma dell'ultimo anno che è stato un anno 2020 quella della pandemia quindi discorso a sé abbiamo contattato 1092 persone diverse queste persone per queste persone abbiamo fatto per 300 350 di queste degli accompagnamenti sanitari li accompagniamo dal medico eccetera è anche un modo per rispondere a un bisogno e per agganciarle rivederle in orario di urno eccetera eccetera abbiamo fatto 5500 contatti abbiamo visto e valutato 430 persone ma sono entrate in accoglienza quindi in quel programma di inclusione sociale eccetera che vi dicevo 124 persone quindi diciamo l'impegno dei progetti antitratta non sempre è adeguatamente rappresentato dai dati questo poi magari lo spiegheremo se volete anche più tardi grazie buonasera grazie a tutti a tutti per l'invito allora io sono campainer dell'associazione terra l'associazione terra si occupa del problema del caporalato del problema dell'agroalimentare potremmo dire in generale visto da una doppia prospettiva quello dei diritti sociali e dei diritti ambientali questo perché noi riteniamo che il caporalato dopo arriviamo diciamo ad una definizione anche se non c'è una definizione diciamo standard Barbara ci ha aperto tante porte a questo proposito perché il caporalato diciamo così come lo conosciamo non esisterebbe al di fuori di un sistema capitalistico come quello in cui viviamo agroindustriale come quello in cui viviamo per questo motivo diciamo che in questi anni attraverso rapporti attraverso campagne abbiamo cercato di studiare più che altro l'origine del caporalato da dove arriva sicuramente da un sistema iniquo dell'agroalimentare che parte dallo strapotere dei canali distributivi dei supermercati dove ogni giorno andiamo a fare la spesa che hanno un potere enorme noi diciamo forse non ci rendiamo conto perché pensiamo che il gesto semplice di andare a fare la spesa sia poco rappresentativo di quello che invece siano i profitti che queste grandi catene fanno però oggi siamo in un momento tra virgolette fortunato perché siamo all'alba di siamo diciamo più che altro abbiamo vissuto il covid e sappiamo ora quali sono stati i profitti che hanno macinato i supermercati e la grande distribuzione e immaginate che questi profitti ad un certo punto vanno a finire su quella che è l'anello di questa catena più debole in assoluto qual è l'anello di questa catena è il lavoratore è la lavoratrice al centro c'è l'agricoltore che naturalmente subisce le vessazioni dei supermercati che pagano pochissimo ovviamente la frutta e la verdura che gli agricoltori producono e gli agricoltori a loro volta scaricano tutto questo peso sull'anello più debole che è appunto il lavoratore questo diciamo è ovviamente una descrizione semplificata di quello che poi è il caporalato che naturalmente ha degli aspetti per molti versi criminali come quelli che ci ha raccontato Barbara ma in realtà l'intermediazione del lavoro è qualcosa a cui tutti noi siamo abituati da quando più o meno mi guardo intorno siamo più o meno tutti coetanei praticamente siamo in vita perché la flessibilizzazione del lavoro in Europa ci ha abituato all'intermediazione alle agenzie del lavoro a tutte forme che ovviamente insomma anche di caporalato in giacca e cravatta che non fanno altro che in qualche modo mettere in collegamento il lavoratore che vuole lavorare e l'azienda che ha bisogno di lavoro e quello che svolge il caporale è esattamente questo ora ovviamente non vorrei diciamo romanticizzarlo però il problema dello Stato dov'è? Il problema anche del nostro paese ma del sistema appunto capitalistico anche del sistema Europa è il fatto di aver distrutto un collocamento pubblico che invece prima dava a queste persone l'opportunità di inserirsi all'interno di liste di registri anche di lavoro in cui diciamo il lavoro in agricoltura è un lavoro stagionale per definizione perché ovviamente le stagioni determinano il lavoro agricolo in passato anche prima diciamo intorno agli anni 60 si faceva così c'erano dei registri pubblici in cui ci si scriveva il caporale esisteva comunque perché c'era questa tipologia di reclutamento quindi comunque al sud insomma ci sono dei bellissimi documentari anche prodotti dalla RAI se vedete insomma anche di Marrazzo insomma giornalisti che hanno fatto la storia di questo paese che effettivamente fotografano quella realtà c'erano caporali che entravano nei paesini della Basilicata della Campania della Puglia e andavano col megafono a chiamare le donne e gli uomini necessari al raccolto di quella giornata cosa è cambiato da allora è cambiata la forma del sistema produttivo dell'Italia e il sistema produttivo europeo i nostri terreni si sono ampliati sempre più le aziende da familiari sono diventate delle multinazionali e di conseguenza le aziende hanno avuto sempre più bisogno di manovalanza a poco prezzo da sfruttare a qualsiasi condizione possibile c'è stato però un credo spartiacue nella storia di questo paese che diciamo io addebito alla rivolta di Rosarno che è stata il 2010 che ha fatto visibilizzare improvvisamente questa categoria di lavoratori che prima erano totalmente invisibili perché li ha resi in qualche modo responsabili del loro futuro di quello che insomma stavano facendo sono venuti in Italia per cambiare vita per lavorare bene e sparare contro due senegalesi non era quello che loro si aspettavano venendo qua in Italia la rivolta cambia e finalmente si inizia a parlare di caporalato realmente come un problema criminale in questo paese e diciamo ma c'era all'epoca il ministero dell'interno insomma Maroni perché insomma non si ricordasse che praticamente militarizzò Rosarno che è un paesino di piccoli di pochissime migliaia di persone insomma invito tutti ad andarci a fare una passeggiata ma insomma ricordarselo militarizzato in quel periodo fa parecchia impressione tant'è che moltissime persone all'epoca decisero di lasciare Rosarno dopo la rivolta perché quella zona fu militarizzata arrivò tantissima polizia e tantissimi braccianti decisero di tornare a Roma da dove erano partiti perché non si sentivano più al sicuro ora quello evento per quanto tragico io credo che abbia lasciato delle tracce importanti nella storia di questo paese innanzitutto ha messo il caporalato nell'agenda politica di questo paese da allora è stato introdotto il tavolo anticaporalato presso il ministero di agricoltura quindi da allora le istituzioni parlano di provvedimenti da prendere per lottare per combattere contro questo fenomeno ma soprattutto ha fatto conoscere alle italiane e gli italiani che insomma nelle campagne non ci sono più gli italiani come ci ricordavamo e pensavamo una volta ma ci sono soprattutto stranieri l'ultimo rapporto dell'Inps nel 2019 li attesta al 30% ma è una percentuale bassissima perché ovviamente questi sono lavoratori dichiarati all'Inps quindi che versano contributi naturalmente se andiamo a guardare nelle sacche ovviamente del nero dell'irregolarità ce ne sarà ovviamente la percentuale sale moltissimo e quindi da allora da questa rivolta addirittura noi abbiamo prodotto un articolo del codice penale l'articolo 603 del codice penale da cui poi è nata la nuova legge anticaporalato la 199 insomma quindi anche noi come per la tratta non possiamo lamentarci terra ha prodotto a febbraio un rapporto sul caporalato in Europa che attraversa Italia Spagna e Grecia e guardando i nostri vicini di casa noi ci siamo detti forse forse in Italia c'è quasi una tutela maggiore rispetto a questi paesi ci piangiamo sempre addosso invece ci sono degli strumenti normativi il problema però qual è? il problema è aver delegato al diritto penale cioè alla repressione quello che si dovrebbe fare nel mondo del lavoro nel mercato del lavoro e nella filiera dell'agroalimentare cioè noi abbiamo praticamente delegato alle forze dell'ordine all'ispettorato del lavoro che funziona diciamo a singhiozzi perché possiamo dire che gli ispettori entrano nelle aziende agricole a fatica in Italia perché hanno paura loro stessi di entrare all'interno delle aziende agricole anche perché l'ispettorato è stato nel corso degli anni falcidiato cioè hanno praticamente sono stati mandati via tantissimi ispettori rispetto agli anni scorsi anche perché è stato uniformato e questo naturalmente che cosa ha portato? Ha portato ad una delega al diritto penale ne parliamo tantissimo in questi ultimi tempi si aprono inchieste su inchieste su aziende sequestrate per caporalato insomma siamo anche contenti che questi tipi queste azioni ci siano dopodiché quello che però non si comprende è diciamo come affrontare questo sistema da un punto di vista questo fenomeno da un punto di vista strutturale Camarda Fantamadi è morto la settimana scorsa giovedì scorso aveva 27 anni veniva dal Mali è morto di calore sotto il sole nel 2015 moriva Paola Clemente una donna nelle campagne di Andria sono passati sei anni dopo la morte di Paola Clemente è stata approvata la legge anticaporalato perché dopo quella morte si accelerò il processo di approvazione perché lo Stato italiano voleva dare un segnale fortissimo a tutti che c'era era presente contro nella lotta di questo fenomeno e non è successo niente stiamo piangendo un altro un altro lavoratore morto di fatica sotto il sole e la storia di Camarda Fantamadi è simbolica di quello che è un po' il discorso che faceva appunto Barbara sugli arrivi del nostro paese per lavoro e un po' anche di quello che è la parte incompiuta che secondo me è poi il nostro tallone d'Achille cioè Camarda Fantamadi aveva 27 anni due anni prima era arrivato col barcone in Italia era arrivato a Napoli centro di accoglienza dopo di che aveva preso la residenza a Eboli era andata a Eboli e pochi giorni prima della sua morte era stato chiamato dal fratello perché il fratello gli aveva trovato un lavoro proprio nella provincia di Brindisi e lui era partito era andato lì e aveva trovato il suo lavoro ed è morto di fatica mentre tornava da questo campo in bicicletta dove guadagnava 5 euro l'ora per raccogliere per zappare la terra ed è morto di calore cadendo dalla sua bicicletta secondo me in questa piccola descrizione c'è un po' tutto quello che l'Italia ancora deve risolvere rispetto a questo tema innanzitutto la parte più vulnerabile cioè lo status giuridico di queste persone non si può continuare ancora a far valere la legge Bossifini insomma questo è il grande problema che abbiamo nel risolvere anche diciamo molto spesso la loro condizione lavorativa legare la residenza al lavoro legare la loro esistenza in Italia al lavoro è una roba folle e questo dobbiamo dircelo fin quando non cambierà questo non cambierà probabilmente mai niente e sicuramente quello che non cambierà è appunto la filiera cioè avere un'ottica di filiera vuol dire andare a punire diciamo questo è soprattutto l'aspetto in più su cui lavora terra che è un po' un aspetto che se vogliamo tendiamo a trascurare però è l'altra faccia della medaglia della morte di Camarda Fantamati cioè noi compiamo cibo nei supermercati a prezzi bassissimi naturalmente non dobbiamo essere noi perché abbiamo redditi bassi io sono molto molto diciamo scettica quando mi chiedono che possiamo fare il consumatore può fare ben poco perché viviamo in una precarietà diciamo asfissiante e totalizzante quello che bisogna fare è aggredire chi quei capitali ce li ha chi ha fatto profitti nel corso di questi anni e quindi la grande distribuzione e quindi chi ha reso possibile questo sistema di sfruttamento e quando guardiamo le leggi europee la PAC che è stata approvata due settimane fa e che va a finanziare le grandi multinazionali l'agroindustria questo vuol dire cioè se guardiamo tu suggerivi appunto di dare delle coordinate a tutti noi queste sono le coordinate cioè non chiudere il giornale e dire ah vabbè questi sono temi ambientali non ci interessano no l'Europa sa molto bene a chi destinare quei fondi e continuando a destinare quei fondi alle grandi multinazionali alle grandi aziende continuerà a reiterare un sistema anche di sfruttamento del lavoro e di depreciamento e di abbassamento del costo del lavoro questo è ovvio perché più avremo bisogno di mano d'opera più la pagheremo sempre meno e la sfrutteremo quindi basta questo grazie mille sia a Barbara che a Maria a livello di numeri Maria di che dimensioni si parla diciamo a livello italiano e poi vabbè so che nel rapporto che avete fatto con la associazione Terra avete fatto un po' un'analisi anche a livello europeo con mi dicevi Spagna e Grecia così per avere un po' un'idea della dimensione allora diciamo che questi sono i dati dell'osservatorio Placido Rizzotto si parla di 190.000 lavoratori irregolari vittime di vittime di caporalato in realtà appunto come dicevo sono numeri che insomma lasciano un po' il tempo che trovano perché è chiaro che ci sono arrivi continui il lavoro agricolo è molto difficile da monitorare proprio per quello che dicevo prima proprio perché è un lavoro stagionale che cambia di stagione in stagione e quindi è un fenomeno che difficilmente si riesce a monitorare bene quello che per esempio in Spagna noi ovviamente abbiamo lavorato sulla parte del sud della Spagna che è quella più interessata soprattutto un fenomeno diciamo abbastanza preoccupante perché tocca le donne le donne marocchine le donne marocchine che vengono chiamate attraverso la contrattazione origen quindi appunto loro vengono tramite un accordo bilaterale che la Spagna ha firmato con il Marocco queste donne vengono praticamente chiamate dalle aziende spagnole tra l'altro con dei criteri che insomma diciamo sessisti e dir poco nel senso che queste aziende cercano poi donne donne adulte donne con famiglie donne con dei figli perché devono essere certi che poi una volta che arrivano in Spagna andranno via dopo la stagione di raccolta e quindi il lavoro di cura in qualche modo è il loro lascia passare quindi loro hanno proprio una tabella insomma di criteri di requisiti a cui queste donne devono rispondere e avere la famiglia è tra i primi requisiti e lì in Spagna la situazione è molto anche peggiore anche rispetto a quello che si sta registrando in Italia se vogliamo cioè ricollegandomi a quello che dicevo prima il 55% dei prodotti agroalimentari in Spagna è commercializzata da 6 6 catene distributive questo vuol dire che tutta diciamo la terra tutta l'agro spagnolo è in mano a queste multinazionali quindi non sono non sono così lontane le due cose dobbiamo fare uno sforzo di lavorare appunto sul pezzo di come arrivano qui come vivono qui ma soprattutto in che sistema poi lavorano in quale sistema che cosa stanno andando a produrre perché poi molti lo sanno insomma se tu ti soffermi con loro sanno molto bene che quella terra che devono andare a coltivare quel giorno dalle 5 del mattino fino alle 3 del pomeriggio è immensa per tre persone ed è per questo che poi accadono le morti in campagna che mi 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 Grazie a tutti